La passata è pubblicata e pubblicata la lettera, quindi all'unità con il provviso la parola di un aspetto presidente che non si dice, presidente che non si curta, non lo sto sostenendo. Presidente, questo è il vostro gruppo, anche il vostro gruppo. Io voglio ringraziare tutti i colori che hanno lavorato, e spero di venire a presentare questo gruppo, e di collaborare a pieno con te in modo reale e professionali. Grazie. Allora, visto che c'è stata la condizione di tutti ieri, non lascerei un minimo di riflessione anche alla parte del Consiglio americano, con più di tutti ieri, visto che c'è stata 5 luoghi, dopo che ti parla la prossima. Consiglio Marzoni. Allora, io faccio i miei auguri al neoelettro vicepresidente Nello Ciccone, però non si può non fare la repressione di quello che sta accadendo al cuore dell'esima vostra, per esempio anche questo Consiglio comunale. Io faccio i miei auguri al Ciccone, con i miei auguri al Ciccone, per esempio, a 113. Allora, oggi si è verificato un vero atto di non socialismo a differenza tra la maggioranza e la maggioranza dell'opposizione. Questo atto ovviamente anche consente qualche maldestro atteggiamento nella stessa posizione a uno dei più discorsi e questa è la conseguenza scattabile di un giorno di scattare gli anni di questo Comune, di questa prestazione e di questa maggioranza. Allora io passo affetto a tutta la maggioranza e a Iurini San Sindaco affinché si scelta di trovare una Stata-Maestra che porti a un riequilibrio dei voli con questa attività tra maggioranza e opposizione perché se si intende andare avanti ancora con questo teatro all'interno della maggioranza e questo tipo di attenzamento oggi che dovranno, diciamo, esprimere un vicepresidente si ha parlato delle opposizioni e doveva essere una dinamica all'interno della maggioranza abbiamo assistito a tutti i trasversali della maggioranza verso l'opposizione veramente stiamo arrivando a uno Stato bassissimo politicamente e non credo che ci siano condizioni per poter andare avanti in questo modo quindi io faccio un appello alla maggioranza che continua a avere una divisione forte al suo interno che una parte vota con le scuole delle opposizioni, un'altra parte si è di a spie così anche per l'aspetto anche ai amici delle opposizioni che forse in qualche considerazione di tattica sbagliata che i giorni scorsi hanno consentito l'elezione di un presidente della commissione ormaiistica della maggioranza io credo che questa conclusione non porti da nessuna parte sia per la politica ma soprattutto per la città grazie grazie a te consiglio giudice e la testa sui casse e non dello stesso temore consigliere e non ci sono altri studenti da parlare consigliere ma è sempre che posso sottolineare che ancora una volta consigliere di un ufficiale rispetto a 9,7,9,5,5 minuti per tutti ancora una volta non viene rispettato un ufficio democratico in quanto questo principio attribuisce la vicepresidenza su posizioni e dopo le dichiarazioni fatte tutte esatte dai consiglieri del centro di città e io credo che la vicepresidenza si è andata a fannaggio di questa maggioranza quindi teoricamente io veramente, guardate, è uno spettacolo che è più impegno e in quanto la vicepresidenza rispetto al presidente, al sindaco quanti sono gli interessi della città che tutti non si vede in manzo avventato, avete detto, mi chiedete in manzo di la buca di la buca, di la buca roccia, non credo questo se non c'è un mini palazzo che riportano a nulla credete che riportano a nulla perché questi non sono fatti che riguardano la città di Cazzo Poi grazie grazie a te consiglio del prezzo io ho proprio esibito mi aspetto il prezzo un saluto a Matteo Letto il portato criminale consigliere la isla grazie grazie grazie